Se avete l'errore che mostre il piatto di piatto di piatto, ma non vedete piatto di piatto di piatto di piatto, magari c'è un piccolo piatto di piatto di piatto di piatto di piatto, e lo potete trovare. Per evitare, provate questo. Prendete il piatto. Aprete il copero del piatto. Prendete il piatto di piatto. Potete uscirelo, spingendo il carriaggio alla right e rotando il YG sulla lefta. Qui potete trovare un giro. Questo giro è collegato con i piatto di piatto che muovono il piatto durante il processo di printing. Rotate il giro. In questo modo, se c'è un piatto di piatto di piatto di piatto, sarà riuscita. Prima di evitare del gallo. Inordine il piatto. Inordine il piatto. Continua per rotare il giro. Il risultato di piatto di piatto dovrebbe ritorno nella posizione. Inclavate il copero. Inordine il piatto. Inordine il piatto. Poi torniamo ancora e controlliamo se funziona.